Loredana Lecciso dopo la separazione da Albano stupisce tutti, ecco cosa fatto Ben ritrovati con un nuovo spazio dedicato alle gossip news su Loredana Lecciso La Salentina che alcune settimane fa ha debuttato a teatro con lo spettacolo Le ultime parole di Cristo nel ruolo di Maria Maddalena Lecciso su Brett, dopo la separazione da Albano Carrisi, ha deciso di dare una svolta alla sua vita Oltre al lavoro, lecciso del maestro ha cambiato look mostrandolo a tutti i suoi followers Lecciso compagna del cantautore di Cellino San Marco ha cambiato look Queste ultime settimane non sono state facili per Loredana Quest'ultima ha dovuto affrontare la separazione da Albano e l'accanimento mediatico da parte della stampa Recentemente ha rilasciato una nuova intervista al magazine Key, smettendo categoricamente che la sua convivenza col Carrisi sia terminata circa 15 anni fa La Salentina, inoltre, ha dichiarato di non portare rancore nei confronti della cantante statunitense A distanza di qualche giorno, l'ex showgirl ha sorpreso tutti i suoi seguaci con un post pubblicato su Instagram Nella foto si vede Loredana con un nuovo taglio di capelli e completamente struccata Accanto allo scatto ha scritto questa breve didascalia, senza extension Si tratta di un ritorno alle origini? Ovviamente gran parte dei suoi followers hanno apprezzato tantissimo il suo cambio di look riempiendola di complimenti Ecco il post dell'Alecciso sul suo profilo Instagram Gossip, Loredana dopo la separazione dal maestro Carrisi Il nuovo cambio di look è avvenuto qualche ora prima della messa in onda dell'intervista di Romina Power nel programma di Maurizio Costanzo Si tratta solo di un caso o è stato fatto volutamente? Dopo le recenti dichiarazioni rilasciate al periodico di Alfonso Signorini Loredana ha deciso di mantenere il silenzio social sulla vicenda legata all'ex compagno Albano Addirittura la Salentina non ha speso nemmeno una parola sulla nascita di Kay, il primo nipotino del maestro Carrisi Ricordiamo che in tutti questi anni i rapporti tra Cristella e l'Alecciso non sono stati mai idilliaci La donna sta affrontando questo periodo difficile dedicandosi molto al lavoro e ai suoi tre figli, Brigitta, avuta da un precedente matrimonio, Yasmine e Bido concepiti con Albano Se desiderate ricevere altre informazioni e curiosità sulla storica coppia e Loredana, consigliamo ai lettori di digitare il tasto Segui canale Albano Carrisi che trovate qui sopra all'articolo.